Qui ai Musei Vaticani con Pasquale Totaro, General Manager d'Aua Technology Italy. Che cosa rappresenta questo progetto Sicurezza? Di sicuro rappresenta la nostra più grande sfida, che noi accettiamo ben volentieri perché viviamo di queste cose e non vediamo l'ora di confrontarci. Di sicuro potremo offrire tutte le nostre esperienze, la nostra tecnologia per far sì che questa sfida venga vinta. E non è una sfida da poca perché ci permetteranno di salvaguardare un patrimonio che non è soltanto nostro ma dell'intera umanità. E quindi per noi è una cosa che diciamo ci esalta, ci preoccupa lo stesso perché comunque è una grande responsabilità ma di sicuro la vinceremo perché è il nostro obiettivo. Viviamo di queste cose, quindi non vedo perché non dovremmo farlo anche stavolta. Benissimo, tra l'altro una sfida lunga perché dura cinque anni questo progetto. Certo, questa sfida lunga di cinque anni ci permetterà di evolvere ancora di più le nostre tecnologie perché grazie alla loro esperienza che ci metteranno a disposizione e alla nostra esperienza, anche nel nostro settore, di certo potremo evolvere qualcosa, spero particolare, perché non vendiamo paradotti confezionati, non vendiamo soluzioni. Quindi per fare una soluzione dobbiamo capire anche qual è il problema. Una volta capito il problema noi sicuramente troveremo una soluzione. Il responsabile infatti del progetto da parte dei Musei Vaticani ha sottolineato che si tratta proprio di un work in progress. Certo, perché se pensiamo a quello che erano le tecnologie di cinque anni fa e quelle che sono adesso, possiamo subito capire che in questi altri cinque anni tante altre cose cambieranno. E quindi a noi spetterà di trovare le soluzioni migliori e attuarle. Sperando nel frattempo Davos inventi altre soluzioni come ha fatto in passato come l'HDC UI. Quindi contiamo molto su questo.